bene ragazzi eccoci qua guardate quei mezzi cani che roba che mezzi che spettacolo 890 smt e beta r300 model year 2024 comunque oggi video alternativo perché video alternativo perché vi voglio portare una cosa che volevo fare da un po praticamente parliamo un attimino di protezioni in moto che sono una cosa sono una cosa molto importante cosa riusciamo a fare le protezioni ragazzi qualcuno dirà ma sì ma cosa me ne faccio della protezione c'ho il casco io ho il casco vado in moto io continuo a vedere allora ieri siccome io non ho solo non so ho anche una famiglia e vado anche in giro con la famiglia ieri sono andato a fare un giro in montagna perché c'era un attimino di bel tempo e poi ho detto quando ho visto queste cose detto domani faccio un video così e faccio uscire questo video perché adesso un po che non voglio parlare cioè ho visto di quelle cose e di quella gente a parte l'andare forte che magari uno ci sta in un momento dove non c'è traffico fa la tiratina ci sta la faccio anch'io io non sto discutendo questo non voglio criticare nessuno ecco questo video non è fatto per criticare ognuno fa quello che vuole se si vuole limare tutte le braccia tutte le gambe ustionare tutto e rompersi un braccio fare ognuno fa quello che vuole della della propria vita io non sono qui a fare non voglio fare il moralista della situazione ok perché anch'io faccio off-road e in off-road è sempre una cosa c'è sempre il pericolo inaguato sei fuori strada però ci si è sempre un po quella situazione dove ci si può fare del male su strada un po a volte ti viene quella cosa di andare in moto questa passione off-road un po dopo che quando vai su strada ti resta un po quella cosa lì di fare un attimino di avere un po quello quello stile lì che però un po un attimo ti devi frenare perché su strada non si può ma ecco come stavo dicendo ho visto di quella gente se io quando vedo questa cosa a me girano i coglioni perché non è possibile vedere delle persone ma non sto non dico giovani di 18 anni 20 anni che forse il disprezzo del pericolo ci può ancora stare perché quella età lì ma guardate che è peggio perché se vi rovinate quelle età lì siete rovinati a vita però a 20 anni non c'è così quella paura e non avendo quella paura si pensa di essere un po invincibile ci sono passato anch'io ovviamente parlo perché ci sono passato anch'io io ho 45 anni non ne ho 20 e si pensa di avere questa cosa di invincibilità di non cadere mai di anche se si cade mi appoggio ama faccio ama qui ama lì perché non si è ancora caduti allora io di cadute importanti non ne ho fatte mi sono rotto una volta una clavicola però cose non non ecco cerco sempre di tirare ma non esagerare perché su strada non si sa mai cosa si trova è quello lì il problema però a 20 anni questa cosa non c'è ma ho visto gente di anche 40 della mia età quarantenni cinquantenni sessantenni con gs con bmw gs maniche corte braghe corte mocassini la moglie dietro vestita uguale andare in giro in mezzo al traffico a fare a fare zig zag superare le macchine in mezzo ai paesi dei centri abitati io vi parlo di una strada adesso vi faccio un esempio del garda la gardesana occidentale dalla parte bresciana fare la mattina quando c'è traffico c'è una coda lo zig zag in mezzo il superare le macchine in mezzo ai paesi che non sapete mai c'è perché quando c'è la coda non sapete mai non ho visto di gente ho visto anche gente cadere superare le macchine in coda così anche in due con la moto pesante 250 chili in due carichi di valigie non passi le macchine che arrivano di là in braghe corte maniche corte cadere e limarsi via tutti perché gli tagliano fuori le macchine li incroci loro superano ma uno in coda quando vede una macchina che esce è normale che si ferma la fa passare tu superi ti spunta fuori il muso della macchina tu gli vai dentro in pieno e cadi ti fai male ok senza protezioni ok e ti fai male c'è il casco dice non mi spacco la testa va bene mi spacco un braccio mi spacco un polso mi rompo una gamba mi cade addosso la moto 250 chili con la moglie sulle spalle mi schiaccia in terra mi faccio del male ok ecco situazioni del genere che a me c'è a me sta gente fa ridere mi dispiace magari qualcuno segue questo canale iscritto va in giro in queste condizioni non andate in giro in queste condizioni perché c'è perché non è possibile distruggersi è un insulto adesso è un insulto ad essere molto molto ciclisti cioè a un certo punto mi viene che me fanno incazzare io quando sono in macchina vedo queste cose li faccio passare perché dico mi sposto perché c'è quasi compassione perché se prendono dentro una valigia o qualcosa cadono ecco situazioni del genere senza protezioni ragazzi ventenni trentenni con moto da strada mille da 200 cavalli robe così maniche corte anche questi braghe corte zainetto per andare al lago in spiaggia a prendere il sole con un r1 o un casco con sopra con sopra il peluche dei cartoni animati senza guanti senza niente vabbè dice a vent'anni uno fa il matto ho capito ma vi distruggete vi distruggete non si possono vedere queste cose qui lasciamo stare il pericolo di chi supera o non supera le protezioni ragazzi sono importanti è abbastanza una volta la macchina la macchina una macchina andare contro una macchina o andare contro o cadere andare in un tornante o in una strada di montagna andare contro una roccia o un guarda rail è devastante è devastante se vi va bene vi fermate prima della moto la moto scivola voi vi fermate sulla strada vi bruciate tutte le gambe vi bruciate tutte le braccia nella caduta se cadete in velocità è facile che scivolate via se siete in piega scivolate via ma se vi fate un high side una cosa del genere che la moto vi parte vi riprende vi sbutta vi butta di là o sbandate perché qualcuno vi arriva vi taglia la strada senza protezioni vi devastate è importante avere le protezioni su strada altrettanto in fuoristrada perché in fuoristrada siete sempre nella fase pericolo se nel fuoristrada c'è sempre quella situazione sì la moto galleggia la gestite la sentite andare fuori di più che su strada perché su strada quando va fuori siete ormai fuori offroad la gestite il bello che chi piace a me piace quello gestire sempre che sei sempre che stai per perdi il mezzo però lo gestisci perché alle gomme tassellate alle ammortizzatori morbidi è alta è fatta apposta per fare quello il bello è quello però la caduta è sempre pronta a fare enduro sei sempre in una situazione di magari di equilibrio che poi si può cadere bisogna avere le protezioni ecco cosa utilizzo io nelle protezioni come protezioni non serve a spendere neanche chissà chi però io quando vado in giro anche su strada adesso parliamo offroad una pettorina di spugna di quelle non super impegnative con un paraschiena poi c'è anche la spalliera staccabile le spalle la gomitiera però io uso queste gomitiere qui un po più resistenti di plastica un po più lunga che vi parlano anche l'avambraccio perché appoggiate gli avambracci contro una pianta va appoggiata contro una una pianta un qualcosa ma io anche su strada l'estate quando vado leggero perché fa caldo c'ho sempre queste perché se va appoggiata contro qualcosa queste qui vi parlano vi rompervi il braccio una ginocchiera in enduro sempre una ginocchiera anche semplice di spugna qui lo stivale arriva fino qui escludiamo casco e stivali che magari un giorno farò un video però bisogna sempre averla questa cosa qui poi ho i miei jeans guardate che questa è la mia giacca quattro stagioni con il trapuntato dalla Revit con dentro il suo paraschiena flessibile a densità cosa bello le sue gomitiera la sua spalliera se cadi questa non si macina non ti bruci le braccia non ti devasti ti rompi sempre né più né meno qualcosa se non stai attento i miei classici jeans che uso sempre io ho due cose non ho tanta roba non è che uno deve spendere migliaia di euro per fare il figo andare in giro quindi questi jeans ci sono tutti guardate che ci sono tutti i link in descrizione nella pagina di amazon hanno le ginocchiere io le tengo sempre dentro le ginocchiere di gomma sono sempre utili un tessuto apposta rinforzato perché non si non si macina ma poi guardate che su asfalto vi scottate né più né meno perché la scivolata vi scotta però non vi rovinate non si può più vedere la gente che va in giro porco zio ma ma io dico ma anche sessantenni cinquantenni che girano in braga corte maniche corte cioè vabbè faccio il giro del paese faccio il giro del quartiere che non so se state in città vado al bar vado a prendere qualcosa le dico la cosa ne so io andate ma non può si può partire andare in moto a fare dei giri in moto con la moglie dietro massacrare anche quella se cadete ma non è che cadete voi perché voi lo so che siete bravi e siete dei fenomeni ad andare in moto vi taglia fuori qualche macchina arriva qualcuno giù di mano in montagna a volte ci sono i trattori in curva vi trovate dei trattori io a volte l'ho scampata ci sono dei video l'hanno fatto un video con 690 bello venivo giù in discesa da una bella strada del gardo della montagna venendo giù da tignale c'è un video da andare a vedere dove ho provato il 690 che avevo fatto le modifiche tignale che va su la strada del gardo andate a cercarlo venendo giù c'è stato un attimo che mi sono trovato in curva la coda con un camion fermo perché stava venendo su un altro camion si sono incontrati tu arrivi in curva in piega facevo i 40 50 all'ora sono riuscito al pelo perché la moto reattiva frenare spostarmi poi avendo gli abs anteriore con l'angolo di di sensibile all'angolo vi salva vi riesce un po salvare perché non vi inchiodo la ruota non vi si chiude lo sterzo se no cadete se cadete così vi impiantate contro contro lo spigolo della macchina in pieno o se no picchiate il braccio vi fa cadere la macchina cadete se di là arriva qualcuno andate dentro dentro la macchina in pieno però se avete le protezioni riuscite ancora a cavarvela se siete in braga corte maniche corte dove andate state a casa state a casa ve l'ho detto io non voglio fare il moralista perché anch'io quando però vedete che nei miei video io non voglio incitare gente a correre fare casini impennate robe così io a me piace l'off road venendo da questo mondo è automatico che ti viene un po anche su strada un po questa cosa no del essere libero di non avere la regola del che vedo che tanti mi scrivono è ma la linea bianca la linea bianca ma guardate che io quando taglio linea bianca taglio i tornanti guardo non c'è nessuno e sono in una strada fuori dai coglioni in montagna dove non esiste nulla io non vado in città o quando faccio i trasferimenti dove c'è traffico a fare il zigzag in mezzo alle macchine o le impennate in mezzo alle macchine cose così non si fanno queste cose perché mettete in pericolo la vostra la vostra vita e create solo problemi poi poi un casino vi ritirano una patente vi ritirano la moto se avete delle cose che non vanno bene sulla moto lasciamo stare cioè cosa voglio dire con questo video voglio un attimino sensibilizzare le persone ad avere paura è meglio avere paura anche in offroad anche su strada tanto più in offroad a volte perché se andate a vedere anche i video gli ultimi che ho fatto con il beta certe situazioni dovete pensare a quello che potete fare i vostri limiti e se siete entusiasti o se vi sentite di più togliete quel qualcosina un po' perché quel cosina in più che vi farà che qualcosa in più che ci mettete di troppo è quello lì che vi fa cadere vi fa fare male perché poi è sempre pronta la situazione su asfalto anche a volte affrontare curva in montagna ce l'ha stata un po' sdrucciolevole ci sono magari scende del terriccio qualche qualche trattore qualche camion perde qualcosa perché ci sono gira la gente con i trattori le cose voi arrivate all'impiego in curva siete già al limite della fisica della moto al limite fisico della moto e non avete tempo di non avete margine di errore cadete però un conto cadere un tornante dove non c'è nessuno con le protezioni ai 40 all'ora 35 40 all'ora vi fate male ma tornate a casa è un conto fare impennare ieri come vi dicevo sono uscito ho visto gente quei gs in braghe corte a maniche corte a superare zig zag in mezzo alle macchine in coda quarantenni cinquantenni che vogliono fare i fighi ho visto gente andare su a un passo con le moto non vi dico maniche corte o gente con camicia con giusto i guantini e le scarpe da ginnastica scarpe da ginnastica adesso non ve lo portate io utilizzo anche delle scarpe apposta rinforzate che hanno le protezioni andate giù nel link in descrizione c'è la pagina di amazon ci sono un po di accessori un po di protezioni poi da quelle protezioni lì se volete altro guardate non chiudete la pagina aiutate il canale però guardate che è molto importante ci tengo molto a questo video ne farò ancora andando avanti voglio farvi vedere un po quello che utilizzo io gli stivali che uso da da enduro da fuoristrada le scarpe che uso faremo magari più avanti appena un attimo è molto 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 importante mettere le protezioni ragazzi e anche chi è su di età le deve mettere non fate i fenomeni non fate i fenomeni lo so che questo video qualcuno starà sul cazzo ma a me non me ne frega un cazzo ok dopo qualcuno gli starò sui coglioni io perché impenno quando faccio l'altornante impenno e mi diranno ma tu ok va bene qua su youtube ognuno fa quello che vuole e segue qui vuole non voglio commenti stupidi di gente ignorante sotto che fa delle critiche sterili ok questa è una cosa importante dai mi dilungo troppo dopo mi parte tutta la parte al fiume dai nari allora qui siamo in una situazione ragazzi che oggi sto facendo il video piove di rotto dovevo andare a fare il passo piove di rotto non posso porto questo video vediamo se al prossimo video andiamo a fare il passo perché adesso ho fatto vi dico ragazzi che ho fatto un passo in macchina con la famiglia c'è ancora la neve in parte alla strada la neve si scioglie va sulla strada tutta la strada bagnata dunque non è ancora ora di fare certi passi perché essendoci ancora la neve arrivata in cima ai tornanti sono tutti bagnati per la neve che cola e io come sapete non vado quando c'è bagnato così a fare il passo perché mi tocca fare i 20 all'ora se mi capita che piove mentre vado nel trasferimento ok ma io voglio un attimino di gas con le protezioni mi raccomando dai nari restate sintonizzati mi raccomando iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video ci sono le playlist di tutti i mezzi sotto che ci sono stati sul canale andremo a fare i passi con l'890 perché adesso arriveranno quelli poi voglio fare ancora qualche video con il beta perché voglio andare in altitudine anche con il beta ho due o tre posti belli da andare a fare un po' di enduro arriverà anche quello però arrivano tutti i passi adesso man mano che si scalda un po' la situazione tempo permettendo vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno un po' un anno così di solito già a giugno cominciavano già uscire a tutti i passi però quest'anno volevo fare delle cose diverse non so se riuscirò perché il tempo che ho è quello che è comunque state sintonizzati il canale va avanti non si ferma mai non ci fermiamo mai perché qua abbiamo la belva due tempi 300 e l'altra belva 4 tempi 890 bicilindrico lc8 ktm che ha una coppia una coppia mostruosa dai nari ci vediamo nel prossimo video mi raccomando andate giù a vedere il link della pagina di amazon perché ci sono tutti i prodottini da dare un occhio un saluto a tutti e alla prossima